Benvenuti, benvenuti in un'altra puntata dello Stato dell'Arte. Oggi sono con una vecchia amica, cara e vecchia amica, Mirella Cisotto. Ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, non vogliamo dire quanti, assolutamente. Lei è stata prima funzionario del Museo Cdc di Padova, poi dirigente nel settore cultura, quindi nelle attività culturali, dirigente delle attività culturali sempre nel comune di Padova, per ricoprire alla fine l'incarico di capo settore della cultura, turismo, musei e biblioteche. Questo fino al 2016. Sì, alla fine del 2016. E poi 2017 nuovo incarico, capo delegazione FAI per la provincia di Padova. 2018, perché non ti fermi qui, 2018 entri nel consiglio generale, quindi sei consigliere generale della fondazione della cassa di risparmio di Padova ero vivo. Eh, fa un po' tremare i polsi, a dire la verità. Trovarmi davanti a te. Senti, però partiamo da quello che hai fatto anche all'interno dei musei del comune di Padova nella parte della cultura. Io c'ero, quindi lo ricordo bene. La didattica all'interno dei musei l'hai introdotta tu. Nel fine anni Ottanta, inizi anni Novanta. E ricordo ancora di più anche un po' di resistenze che ci sono state in quel momento, che era una novità assoluta, all'interno proprio anche dei musei. Ma poi si è visto che invece avevi ragione, ovviamente. Ma che cosa ha significato in quel momento questo cambiamento, questa introduzione di queste nuove figure, di questi nuovi percorsi per le scuole e nel rapporto anche con i visitatori? Allora, intanto io sono arrivata al museo agli inizi degli anni Ottanta. E il museo era qualcosa di molto diverso da quello che conosciamo oggi. Era un ambiente molto severo, bellissimo, ma assolutamente vuoto per quanto riguardava i visitatori. Beh, ricordiamo che non era il museo di oggi, non era quello degli erimitani, ma era quello di essere il santo. Esatto, eravamo ancora nell'area conventuale del santo, con il bellissimo ingresso del boito, dove le collezioni peraltro erano comunque bellissime. C'era la pinacoteca e il museo archeologico invece non era esposto, in attesa di essere trasferito agli erimitani, dove appunto le prime sale furono aperte nell'85. Comunque, insomma, la mostra di Padova preromana. Esatto, esatto. Allora era un museo particolare e però, insomma, stupendo, ma proprio i visitatori erano solo studiosi, collezionisti, insomma persone molto particolari e raffinate. Assolutamente i padovani non andavano al museo e ancor meno le scuole. E in realtà negli anni settanta stava nascendo l'idea di sezione didattica ancora, cioè già, e a livello nazionale. E io mi ricordo che una delle prime cose che ritenne importante, insomma, quando arrivai, fu quello di dire che il museo deve essere visitato. Per cui, con l'assessore Francesco Feltrin, che è stato il primo assessore che ho avuto, poi il direttore era Giovanni Gorini, insomma, si decise di fare qualcosa per animare appunto questo museo. e una delle mie prime attività furono appunto le domeniche al museo per le famiglie. Certo. E poi, appunto, andai a Firenze perché vogli vedere come funzionava la sezione didattica degli uffizi, che è stata la prima, insomma, a funzionare bene. E ne fui entusiasta e capì che era assolutamente necessario riproporre la cosa anche nella nostra, nella mia città. E era un'attività ritenuta però quasi di, insomma, seconda categoria rispetto alla catalogazione, allo studio, alla conservazione. E quindi dovete ritagliarmi dei, sì, dei frammenti di tempo nell'ambito anche lavorativo, ma con l'aiuto di una collaboratrice, insomma, mitica, che ricorderai anche tu, Giovanna Paganin. Certo, certo. Era di entusiasmo e di creatività. E poi con alcune insegnanti andate da poco in pensione e con cui avevo condiviso questa mia, insomma, questo mio progetto, iniziamo a fare le prime sperimentazioni. E vidi che andavano benissimo, che c'era un grande bisogno di questo, di questa attività, perché gli insegnanti sarebbero venuti al museo volentieri, però non sapevano come muoversi. Quindi il fatto di trovare un aiuto referente ha molto sviluppato, diciamo, questa volontà di fare in modo che anche il museo diventasse uno strumento didattico. Avevate mezzi molto, diciamo, spartani. All'inizio zero, cioè zero, si faceva quasi a tempo perso. Diciamo che il salto di qualità è stato fatto quando mi sono un po' collegata alla mia collega, un'altra persona in gambissima, Susanna Brunazzo, dei servizi educativi. E con lei e con uno studioso di didattica della storia, che non potrò mai finire di ringraziare, che è il professor Ivo Mattozzi, avviamo il progetto alla scoperta dei paleoveneti nel territorio Padovano. Il professor Mattozzi aveva individuato una metodologia che poi io applicai sul campo, cioè il fatto di considerare il reperto, oppure l'opera d'arte, proprio quale oggetto di osservazione, quale documento, quale fonte di informazione, per portare gli utenti, piccoli o grandi che fossero, ma in questo caso soprattutto con i bambini, il lavoro è stato importante, a dedurre, ovviamente guidati dall'operatore, oppure da schede appositamente preparate, le informazioni che tu volevi fargli dedurre. E questo con un lavoro di preparazione all'inizio a scuola, che però non doveva svelare, doveva solo dare, diciamo, quelle informazioni necessarie per poter poi accedere con una certa consapevolezza al museo, e un lavoro poi di approfondimento dopo la visita guidata. Ricordo che allora sperimentammo anche, con grande scandalo di alcuni colleghi archeologi, il discorso dell'esperienza tattile, cioè quello di far toccare, far toccare dei reperti. E l'emozione che i bambini avevano nel toccare questi oggetti, anche semplicissimi, perché naturalmente facevano toccare dei cocci, dei fondi, di ciotole. Le cose un po' di scarto, diciamo. Esatto, 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 ma il fatto di capire, di mettere il dito dove l'aveva messo questo nostro predecessore, che si trovava in una capanna, che si trovava in una certa situazione, che doveva procurarsi il cibo in un certo modo, eccetera, veramente segnava i ragazzi e soprattutto insegnava. Non tanto la nozione, ma quello che era importante era l'approccio al bene culturale e anche l'esperienza emotiva che, assieme alla parte, diciamo, intellettuale dell'apprendimento, fissava un comportamento anche nel rispetto del bene. Quindi accadeva che i bambini, quando uscivano, e magari vedevano i ragazzi entrare in maniera un po' disordinata, magari i ragazzi più grandi, senza più difficile, devo dire, i bambini li redarguivano. Cioè, dicevano, state attenti perché qua siamo in un luogo importante, bisogna, e veramente, allora ho capito, mi si è aperto un mondo, insomma, ho capito che quegli sforzi erano sforzi che valeva la pena di fare perché avevano dei risultati. Cioè, non era un lavoro fatto che magari poi, insomma, lasciava il tempo che trovava. Sì, non era fino a se stesso. Come talora, insomma, ci si trova talora a fare, insomma, anche nell'ambito degli studi, devo dire. Ma che veramente serviva ed inciteva nella formazione di questi ragazzi. Formazione che poi è importante, a mio avviso, continuare a fare anche negli adulti, perché anche gli adulti hanno bisogno di cultura e di capire la propria identità attraverso il bene culturale. A proposito di adulti, qui invece chiamo in causa il capodelegazione FAI, veniamo un po', vorrei vedere un attimo lo stato dell'arte adesso nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio padovano. Fino al momento di blocco, purtroppo, dovuto al coronavirus, com'era la situazione, visto proprio dal punto di osservazione del FAI? Allora sappiamo che il FAI è una fondazione fondata nel 75 con l'obiettivo di tutelare e promuovere i beni culturali e i beni naturali e favorire l'amore per la bellezza e aiutare, diciamo, lo Stato, in base all'articolo 9 della Costituzione, adempiere a questo grande compito, perché l'Italia è un paese meraviglioso e tutti dobbiamo collaborare affinché resti il paese meraviglioso che è o che era. Ecco perché... Beh, lo è ancora, dai. Lo è ancora, anche se l'ambiente è stato molto, molto, molto rovinato. Non solo in Italia, naturalmente. Quindi il FAI con questa attività che è fatta per gran parte da volontari raccogliendo appunto contributi dovuti alle iscrizioni soprattutto ed è per questo che noi raccomandiamo a tutti di iscriversi al FAI perché è una goccia, però è una goccia che assieme a tante altre gocce ha prodotto dei risultati immensi. Infatti il FAI adesso ha acquisito una sessantina di beni e più della metà è già stato studiato, restaurato, recuperato e aperto al pubblico. E qui a Padova quante sedi avete voi? Allora, qui a Padova abbiamo Villa Vescovi che per Padova è l'unico bene FAI che abbiamo. Poi noi come sede di delegazione siamo ospiti della Fondazione Cariparo nella Casa della Rampa come anche altre associazioni. Quindi chi vuole iscriversi può venire anche a Casa della Rampa. Poi noi facciamo appunto quasi settimanalmente degli incontri, delle conferenze, delle visite che però appunto come tutte le altre associazioni culturali e come anche tutti gli enti, tutti i vari soggetti che operano in ambito culturale abbiamo dovuto interrompere brutalmente con il lockdown eccetera. Però diciamo che anche la sede di Villa dei Vescovi negli ultimi anni, cioè da quando è stata presa dal FAI, in gestione dal FAI, ha subito una bella trasformazione soprattutto per il numero di turisti che sono venuti. E' vero? Assolutamente, cioè è una villa bellissima. Tentiamo sia appunto chi si occupa di Villa dei Vescovi e sia la direzione generale a Milano e sia appunto la delegazione di valorizzarla e farla conoscere al massimo e poi appunto i responsabili della villa, in primis c'è Silvia Ferri che è la property manager e organizza con i suoi collaboratori anche una serie di eventi che peraltro adesso riprenderanno. E' così importante. Sì, mi sembra dal 2 giugno insomma tutti i beni sono stati riaperti in assoluta sicurezza, ovviamente con delle modalità molto diverse da come era prima, quindi non potete notare, cioè si va a gruppi, chi entra deve sottoporsi alla misurazione della temperatura. Il protocollo. Insomma ormai è così, però assolutamente i beni sono riaperti e inizieranno anche le diverse attività, anche serali, estive, domenicali per le famiglie. Si ricomincia. Esatto, si ricomincia. Ecco, a riguardo volevo anche dire insomma in anteprima nel senso che siamo abbastanza vicini ma ancora la campagna nazionale insomma si sta partendo ora il 27 e il 28 giugno faremo due giornate fai di apertura. Ah bene. Ecco, non possiamo ancora dire quale sarà il sito però possiamo dire l'ambito del comune sarà nel comune di Onara, sarà un luogo aperto proprio per garantire la sicurezza, bisognerà prenotarsi su giornatefai.it, chi vuole può già ora entrare nel sito e vede insomma, però le prenotazioni inizieranno molto sotto diciamo data il 23, in questo caso il fai chiederà un contributo proprio perché immaginate la difficoltà anche della fondazione che vive di questi contributi avendo perso le giornate fai di primavera le giornate fai di primavera sono un evento molto bello con l'apertura di luoghi in tutta Italia ma è anche una grande occasione di raccolta fondi che quest'anno è andata totalmente perduta per cui anche se chiaramente il numero sarà molto contenuto dei visitatori per forza di cose perché faremo gruppi di 10 persone a distanza di una mezz'ora uno dall'altro perché non si incroci, eccetera, eccetera e quindi insomma è più come dire una volontà di mostrare che si è presenti nel territorio, che c'è la volontà di fare e quindi insomma anche la raccolta sarà molto modesta perché non avremo le migliaia di persone questo è scontato purtroppo però è un piccolo segno insomma quindi si chiederanno questi 3 euro 5 euro per i non iscritti 3 per gli iscritti proprio come segno di come dire di supporto e di solidarietà Senti, a proposito di questo cioè della cultura a Padova nel territorio padovano tu hai ricoperto dei ruoli importanti all'interno del comune e ricopri tuttora dei ruoli importanti nel mondo della cultura dell'organizzazione della cultura tra l'altro quello di consigliere generale della fondazione Cariparo e tu in questo modo hai potuto vedere quantomeno negli ultimi 30 anni come è cambiato a Padova anche il modo di organizzare di finanziare e di realizzare un sacco di tipi di manifestazioni da restauri, mostre, spettacoli eccetera 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 c'è stato un cambiamento c'è stato un cambiamento nel modo c'è stato un cambiamento anche di ruoli per esempio adesso le associazioni sono molto più presenti rispetto a una volta se ne puoi parlare dal tuo punto di vista allora diciamo che ripercorrendo un po' a ritroso insomma questa nostra attività nel senso che c'eri anche tu e quindi ecco e l'attività un po' anche del settore cultura dell'assessorato insomma della cultura della città ci possiamo ben ricordare che c'erano tempi in cui insomma si lavorava molto bene anche dal punto di vista finanziario cioè era molta rispondibilità ecco allora noi non ce ne accorgiavamo però ce ne siamo ben accorti dopo esatto quindi intanto l'istituzione delle regioni poi la legge 50 dell'84 che permetteva di insomma attraverso la quale la regione dava contributi veramente copiosi ai musei potevamo fare veramente tante attività di catalogazione di studio di valorizzazione e realizzare mostre eccetera poi c'è stato il periodo appunto in cui sono iniziate le mostre gli anni 70 mostre un po' diciamo molto colte un po' d'elite e per arrivare poi invece alle mostre come le consideriamo le vediamo adesso che io le farei iniziare con la mostra di Rubens sì all'inizio cos'era il 90 mi sembra sì sì gli anni 10 90 prima avevamo già fatto però tipo il Vise Cornaro il suo tempo Strazzabosco prima ancora prima che anche arrivassimo noi in in assessorato c'era stata Padova preromana dopo Mantegna da Giotto a Mantegna insomma però Rubens è stato un po' un punto anche di rottura perché non era una mostra organizzata da Padova esatto quindi è cambiato è stata la mostra che ha dato avvio secondo me a quello che poi è stato il grande fenomeno delle mostre anche a livello nazionale internazionale e l'assessore allora era Gianni Potti con una visione era molto giovane ma una visione molto ampia e intelligente cioè visto molto al di là con lui abbiamo iniziato anche i notturni d'arte ecco e con quella mostra che allora ci aveva anche un po' come dire sorpreso perché non eravamo abituati e però insomma si è iniziata praticamente un'altra era poi sono seguite altre mostre molto importanti molto belle legate al territorio da Bellini al Tintoretto sono state tantissime poi però quella è stata la prima mostra evento esatto è stata questa esattamente per quello che appunto volevo ricordarlo poi ricordiamo per esempio la grande mostra sulla miniatura certo è stata una mostra secondo me eccezionale veramente bellissima il salone veramente suggestiva per arrivare poi tipo a Giotto il suo tempo nel 2000 Padova la scuola dell'oro e via dicendo insomma Venectens in tempi sì certo ecco comunque insomma inizia anche questo periodo delle mostre se non che cosa succede questo è stato l'altro momento di rottura importante con la spending review quella vera non quella degli anni 80 ma quella degli anni 2000 e ci è arrivato questo grande colpo dato dal decreto 112 del 2008 che praticamente ci impediva impediva i comuni agli enti locali di spendere in mostre convegni pubblicità promozione rappresentanza cioè praticamente tutti quegli aspetti che a noi servivano per fare attività di un certo tipo e di conseguenza lì ci si è dovuti un pochino reinventare ed è a quel punto che si è guardate si è guardato appunto al mondo culturale che ci circondava e si è visto che la città offriva una quantità enorme di risorse attraverso appunto le varie associazioni e Padova devo dire che a riguardo è veramente straordinaria perché ha una grande vitalità e compito dell'assessorato e qui è stata la bravura anche dell'assessore Colasio è stato quello di coordinare tutte queste associazioni metterle in rete e fare in modo perché molto spesso insomma anche le attività erano un po' autoreferenziali oppure fine a se stesse assolutamente scollegate poco comunicate e invece mettendo in rete tutta questa grande forza si è creato una grande energia e anche un programma eccezionale che non partiva direttamente dal comune che il comune supportava in vari modi a cui dava anche come dire fiato dava anche senso perché dove il senso non c'era o ce n'era poco magari insomma ci si si veniva a supportare meno le azioni di quel tipo valorizzando invece quelle che potevano dare veramente un contributo alla città e nel contempo poi per fortuna è venuta in aiuto la fondazione Cariparo che da quel momento ha finanziato devo dire anche copiosamente permettendo che l'attività culturale comunque continuasse certo e come è vero che è importante il volontariato e l'associazionismo però per produrre cultura ci vuole anche ci vogliono le risorse le risorse dai diciamolo no no è così è assolutamente così senti ma e quindi effettivamente i ruoli di comune e delle associazioni sono cambiate poi le associazioni sono meno come dici tu autoreferenziali e il comune agisce meno in prima persona certo e meno di autorità diciamo meno di autorità ecco sì effettivamente ma adesso parliamo anche un po' del futuro del presente futuro cioè siamo in un momento di cambiamento probabilmente questo è un altro di quei momenti in cui cambiano un po' le cose anche nel mondo della cultura nonostante tutto la richiesta di cultura è continuata anche durante questi mesi di blocco basta vedere tutte le varie attività svoltesi anche in internet da parte di tutte le associazioni hanno provato e spesso ci sono riuscite a produrre cultura per il futuro secondo te potranno esserci dei mutamenti e come per esempio più attenzione ai contenuti meno alla spettacolarizzazione degli eventi che poi alla fine lascia il tempo che trova questa spettacolarizzazione forme di lavoro differenti anche nel mondo della cultura cosa può succedere secondo te allora questa non è una domanda facile penso una domanda che ci siamo posti tutti è chiaro che il covid ha creato veramente una cesura nel senso che ha cambiato improvvisamente consuetudini modalità sia a livello diciamo della vita quotidiana personale collettiva della comunità sia a livello dell'approccio culturale perché non ci siamo più potuti trovare cioè non abbiamo più potuto fare le conferenze le visite diciamo che un po' il dramma per quanto riguarda la parte culturale è che la cultura vive di relazione a mio avviso la compresenza è molto importante perché il teatro cioè che cos'è se non hai il pubblico che respira con l'attore l'attore può recitare però sentire la vibrazione di un pubblico che ti segue è diverso che recitare davanti ad un computer ecco quindi ci sono cose che io credo spero insomma possano essere assolutamente recuperate d'altro lato però si è aperta anche come sempre insomma quando succedono queste cose e l'importante sarebbe trarne una lezione intanto secondo me questo fatto ci ha fatto capire quante cose noi davamo per scontate in realtà non lo sono e ci possono essere tolte cioè dal caffè sfogliando il giornale al bar che adesso magari abbiamo recuperato il caffè ma non più il quotidiano al fatto di appunto trovarsi assieme vivere delle emozioni assieme vedere un'opera d'arte scambiandosi le idee le opinioni ragionando con chi ce la spiega e però appunto attraverso il web abbiamo visto anche l'importanza di essere collegati anche a grande distanza di poter chiamare magari personalità che non avremmo mai potuto osare interpellare per via della distanza magari qualcuno oltreoceano alla fine in questo modo diventa portata di mano per cui io credo che sì dobbiamo appunto cogliere la parte positiva di quello che accade e saperne trarre lezione per esempio si parla appunto il turismo ha avuto un collasso è stato uno dei settori più colpiti assieme alla cultura si parla adesso di turismo di prossimità ma in realtà che cos'è il turismo di prossimità è quello che Marco noi all'inizio volevamo fare nel senso il cittadino deve essere colui che va al suo museo è sempre stato per far andare il cittadino al museo devi reinventarlo devi ogni giorno proporre qualcosa di diverso può essere un'opera un dipinto e quindi la cittadinanza deve riappropriarsi dei propri beni culturali e di qui come dire il bene diventa qualcosa che veramente rappresenta la propria comunità e ne crea l'identità quando invece forse e ultimamente questa cosa si era molto persa di vista anche dal punto di vista diciamo dell'indirizzo culturale nel senso che magari si diceva ma dopo di fatto si facevano fino fino a un certo punto ora forse si è costretti a farlo sì di più di prima sicuramente questo sicuramente bene Mirella io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità grazie di questa bella chiacchierata e saluto anche i nostri spettatori e vi rimando alla prossima puntata dello Stato dell'arte grazie a tutti a presto grazie a tutti a presto grazie a tutti grazie a tutti